Buonasera a tutti e benvenuti. Decreto salva banche? Non ve ne so parlare più di tanto anche perché non ho avuto la possibilità di leggere questo decreto. Sappiamo che alcune banche, quattro, sono state salvate da un problema imbarazzante di liquidità, di possibilità di dissesto e qui con tutta una serie di problematiche che possono coinvolgere, potevano comunque coinvolgere o salvare, come è accaduto oggi, i dipendenti di queste stesse banche e un certo numero di risparmiatori. Però sappiamo anche che tanti altri risparmiatori hanno perso completamente o quasi completamente tutti i loro averi e per adesso nessuno ha pensato, detto o spiegato come poter restituire a queste persone questi denari che i risparmiatori avevano depositato nelle banche per, come dire, cumularli, custodirli, mantenerli esenti da problematiche di fondi strani, di azioni strani, di volatilità strana di denaro. È una sorta di affidamento con fiducia presso i responsabili della banca con i quali da anni magari siamo in contatto e che da anni curano i nostri interessi. Non ne facciamo una questione politica, non mi interessa il discorso del ministro Boschi, di suo padre, di suo fratello, dell'essere coinvolti o meno. Nemmeno mi interessano le esternazioni dove il Presidente del Consiglio dice mi fa schifo chi possa parlare di utilizzare il pensionato che si è suicidato per farne una questione politica. Magari può farmi schifo pensare a come certe banche o certe persone possano convincere dei cittadini a versare i loro denari e affidando alla banca i beni, i risparmi di un'intera vita quando poi questa banca bellamente omette di informarli sulla pericolosità di questo investimento. Forse questo in effetti può essere più imbarazzante e dare più fastidio. E tutto questo non ha una colorazione politica, ma è un fatto oggettivo. È quello che è successo. E quando parliamo del pensionato che si è stato trovato impiccato all'interno della propria abitazione, quindi è un suicidio, ma è un suicidio motivato come scrive questo pensionato sul computer dal fatto di aver perso tutti i risparmi di una vita. E quando sempre questo stesso pensionato, peraltro anche con delle inabilità, peraltro anche con una limitata capacità di apprendimento o di gestione economica dei propri beni, proprio perché non era il suo lavoro. Il suo lavoro era quello di versare questi denari sulla banca, dove pensava di tenerli al sicuro. Ebbene, ecco, il non aver spiegato con correttezza, con una sorta di diligenza, con anche quello che è, insomma, quello che si richiede quando andiamo in banca, essere perlomeno informati da persone che pensiamo ne sappiano più di noi. investire poi in obbligazioni, chiamate residuali, che sono puff, saltate per aria e successivamente chiamare la banca, fissare degli appuntamenti, chiedere spiegazioni, chiedere magari anche la restituzione di questi denari e non ricevere udienza e non ricevere una risposta e rimanere nella più completa disperazione e pensare per questo forse anche alla fine della propria vita, nel senso di dire avevo risparmiato tutto e tutto finito, come farò a continuare quei pochi anni che mi restano da vivere per me e per i miei familiari, magari potrebbe anche configurare quello che è un reato previsto dal nostro codice penale. Tant'è che il procuratore di Civitavecchia ha inteso fare luce sui rapporti finanziari di questo pensionato, ha richiesto alla banca tutta la documentazione utile a capire quelli che sono stati gli strumenti finanziari proposti al pensionato e il suo grado di conoscenza, di discernimento e volontà di prestare il proprio consenso per acquistare questi prodotti finanziari e anche sulla stessa gestione che i responsabili in questo caso di Banca Etruria hanno sviluppato nei confronti del pensionato, gestione che poi sappiamo essere stata completamente fallimentare. Verranno quindi sentiti i testimoni della vicenda, verranno sentiti anche i responsabili, i funzionari, tutti coloro che potranno dire al commissariato di polizia la loro ed il reato supposto è quello di istigazioni al suicidio. Si tratta però di un reato complesso da configurare e molto spesso difficile anche da integrare nei suoi elementi oggettivi e soggettivi proprio perché dimostrare che qualcuno ci possa aver istigato al suicidio è veramente difficile. Ecco che allora altre organizzazioni vicine alla storia di questo pensionato, comunque alla vicenda che ha coinvolto tutti i risparmiatori di questa ed altre banche coinvolte, ha con un esposto invitato la magistratura ad inquadrare anche un altro tipo di reato previsto dall'articolo 586 del codice penale, ovvero la morte o le lesioni come conseguenza di altro delitto. Che cosa significa? Significa semplicemente cercare di configurare nei confronti della banca una responsabilità, responsabilità dalla quale possa derivare un reato penale e vedere se da questo reato penale la morte o le lesioni, in questo caso la morte come quella avvenuta per il pensionato, ne possano essere state derivate come conseguenza. Attendiamo tutti con grande interesse di vedere l'esito di questa indagine, ripeto, a prescindere da questioni politiche destra, sinistra, padri, madri, fratelli che francamente in questo momento non ci interessano. Grazie. Grazie. Grazie.